Sono per provare gli esercizi che abbiamo fatto prima con Luca. L'importante è il contatto del corpo. E' buono per la pratica a terra. Non sulla pancia ma sul petto. Non va bene. Lui così si alza. E' un grande dito. Non è un trucco, potete provare. E' l'area più importante della pratica. Yoko Shigatami non laggiù, lui si alza. Ma verso il petto. Tutto su giudo è lì. Grazie. Grazie. Grazie.